Il Festival Francescano ospita una tavola rotonda sulla figura di Don Milani. Ci saranno degli esperti, la figlia di uno degli allievi di Don Milani. Uno degli allievi di Don Milani è anche chi ha scritto in termini di grande letteratura su questa grande figura di maestro. Il mio ultimo libro si intitola proprio L'uomo del futuro dedicato a Don Lorenzo Milani. Nel mio caso, essendo un insegnante, scrittore, volevo anche capire l'attualità di questo grande sacerdote, educatore, profeta, scrittore. È difficile anche definirlo Don Milani perché è stato tante cose, è un grande italiano. Nel mio libro sono andato un po' sulle tracce di Don Lorenzo Milani, sia andando a vedere i luoghi della sua vita, da Firenze a Montespertori, a Milano, dove lui è vissuto, a Castiglioncello, naturalmente a Barbiana, a San Donato di Calenzano, però sono anche andato a cercarmi i Don Milani di oggi. Chi sarebbe oggi Don Lorenzo Milani? Io l'ho ritrovato nella suora di madre Teresa di Calcutta in India, l'ho ritrovato negli educatori berlinesi, a Città del Messico. Io voglio anche capire cosa ci ha lasciato Don Lorenzo Milani e come noi oggi possiamo utilizzare la sua energia. Lei lavora con gli immigrati, con i figli degli immigrati e a noi sembra proprio che nella scuola si giochi tutto il futuro. Sì, sono d'accordo. Effettivamente nella scuola è il punto fondamentale. Diciamo che Don Lorenzo ha sognato anche una scuola che in parte si è realizzata, in parte è ancora da compiersi, per così dire. Una scuola in cui più che i voti, più che i programmi, più che i giudizi, continuo gli sguardi. Guardiarsi negli occhi, assumersi la responsabilità dello sguardo altrui. E poi c'è quella fotografia di Don Lorenzo Milani con un bambino congolese in braccio. Era il figlio di una famiglia africana che era andata a Barbiana a visitarlo. Ecco, secondo me quella fotografia ti fa capire proprio chi era Don Lorenzo. È come se avesse compreso che i ragazzi di Barbiana di oggi sono Mohamed, sono Khalik, sono Omar. Quindi c'è una grande attualità, a mio avviso, di questo priore di Barbiana. Presentiamo anche insieme a Ruozzi tutta l'opera di Don Milani che è uscita quest'anno. Si ricorda un punto dei suoi scritti che l'ha particolarmente aiutata anche nello scrivere il suo libro? Beh, ce ne sono tanti. Diciamo, la lettera a Nadia Neri è una delle più belle, secondo me. Questa professoressa giovanissima napoletana che chiedeva consiglio a Don Lorenzo, quando ormai verso la fine della sua vita lui ormai disteso a letto, stava per rispondere una bambina a questa lettera. No, guarda, rispondo io a una delle ultime lettere in cui Don Lorenzo ti fa capire cosa significa veramente insegnare. raccontandolo a Nadia, a questa ragazza che chiedeva consigli, lui raccontava e diceva guarda, ti devi innamorare dei tuoi studenti, devi spendere tutto quello che tu hai, in quel modo diventerai una vera maestra, per così. Prima ancora di essere fidanzata, di sposarti. Ecco, una frase bellissima che Don Lorenzo disse a questa ragazza, secondo me quella è una delle cose più... e poi la cosa più bella che mi è successa è questa a Nadia Neri è venuta a sentire noi, diciamo, alla Penny Whirton, questa scuola di italiano per immigrati che io e mia moglie Anna Luce Lenzi abbiamo fondato a Roma e che si sta diffondendo in tutta Italia, ecco, vedere questa continuità, ecco, tra la destinatrice di questa lettera di Don Lorenzo e la scuola per immigrati che noi stiamo cercando di realizzare. Ecco, mi è sembrato un suggello perfetto, diciamo, di come noi possiamo raccogliere il testimone di Don Lorenzo Milani. Grazie. Grazie a voi. Grazie.